Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Bologna ricordiamo che sono chiuse per lavori le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con possibili disagi alla circolazione. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis Tiberina per lavori chiuso in entrata e uscita in direzione Roma allo svincolo di Sansepolcro Sud. Sulla statale 67 bis Tosco-Romagnola per lavori chiusura del tratto dal chilometro 400 più 950 al chilometro 15 più 550. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!